Come è organizzata la fase dell'accoglienza? L'accoglienza dei cittadini immigrati che entrano nel nostro territorio è un procedimento complesso che coinvolge più enti istituzionali. Nel momento iniziale, nel momento dello sbarco sul territorio nazionale, intervengono diversi attori. La Questura è uno dei tanti attori che interviene sotto il coordinamento della Prefettura che coinvolge anche altri enti quali l'ASP o altri enti interessati al fenomeno migratorio e dell'accoglienza. La Questura si occupa in particolare degli aspetti preliminari che riguardano l'identificazione dell'immigrato, quindi l'identificazione e il fotosegnalamento che tra l'altro sono procedure obbligatorie previste anche dalla normativa europea. e attraverso questa prima fase di identificazione e di fotosegnalamento e di screening anche su eventuali precedenti dello straniero si arriva poi alla fase dell'individuazione del soggetto richiedente protezione che avrebbe quantomeno ipoteticamente diritto alla protezione e i soggetti invece non richiedenti la protezione che seguono un iter diverso e che diventano poi destinatari di provvedimenti di respingimento. Chiaramente i soggetti che accedono alla procedura della protezione internazionale hanno diritto all'accoglienza in centri individuati dalla Prefettura e la Questura segue l'iter burocratico e procedurale preliminare che poi convoglia le richieste nell'audizione innanzi alla Commissione territoriale. Negli ultimi anni come è cambiata la legislazione soprattutto all'estero? Come viene percepita la nostra capacità e la volontà di accogliere? Sulla percezione all'estero non saprei risponderle. Io posso dirle soltanto come si è organizzata la macchina dell'accoglienza e come è cambiata in questi anni. Ovviamente ha richiesto uno sforzo di adattamento alle quantità e anche alle modalità che nel corso degli anni si sono realizzate. Mentre negli anni scorsi abbiamo prima della primavera araba le modalità di arrivo e di accoglienza erano sicuramente molto diverse e adesso si sono dovute tarare su numeri diversi e anche su modalità sicuramente più impegnative per le istituzioni coinvolte nel fenomeno.